magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi andiamo con uno dei format più attesi della settimana ossia le due top 11 cominciamo come sempre la top 11 scommesse per finire alla top 11 classica per chi magari fa un fantacalcio all'istone e questa settimana ci sono tanti nomi nuovi rispetto al solito a inizio video andiamo a vedere anche un po cosa è successo nei recuperi di ieri e vi ricordo solamente di lasciare un bel like di iscrivervi al canale che è fondamentale per venire nelle live a farmi tutte le domande che volete e oggi sarò in live qui su youtube questo pomeriggio in cui potete farmi già domande su chi schierare questa settimana e anche se avete qualche scambio in mente da fare vi ricordo ragazzi di iscrivervi su starks link in descrizione oggi è l'ultimo giorno almeno se non prolungano la promozione in cui se vi registrate almeno 20 euro starks vi regala 30 euro di bonus poi mi avete chiesto in in privato ma sta settimana hai vinto qualcosa su starks non è andata benissimo però la cosa incredibile è anche quando nella seconda giornata non è andata benissimo 110 euro a casa l'abbiamo portato uguale perché da nono sono passato 14esimo 14esimo livello 3 vale 110 euro capite che tanta roba il gioco di starks ragazzi e in più notizia di ieri starks ha chiuso l'accordo con il genoa una squadra importante già del nostro campionato e con loro ci sarà questa collaborazione in cui gli utenti iscritti a starks possono anche prendersi delle esperienze con il genoa e questo magari potrebbe essere allargato poi anche alla vostra squadra del cuore perché ovviamente piano piano mettiamo un tassello per andare avanti vi ricordo che in descrizione trovate anche tutti i link per entrare nel gruppo telegram degli iscritti nel canale telegram degli iscritti nel canale whatsapp e infine c'è anche il canale per la call il gruppo per la call che farò singolarmente con ognuno di voi quindi se volete saperne di più su starks link in descrizione cominciamo a vedere cos'è successo ieri il sassuolo fa esordire bigica dall'allenatore della primavera e partono anche bene 1 a 0 contro il napoli poi poi difficile commentare 1 a 6 il discorso è che non mi va di parlare di ruan tre soldi ragazzi cioè c'è poco ormai da dire abbiamo detto tutto anche nelle live forse c'è qualcosa che noi non sappiamo perché sennò io a memoria non ricordo un giocatore così continuo nel far male e lo vediamo sempre titolare quindi c'è poco da dire magari non saranno tutti i gol sulla sua coscienza però osimen non lo prende lo marca lo marca da dietro sul gol sul terzo gol di osimen è lui che regala palla a quara vedo cose imbarazzanti poi napoli ecco mi concentro più sul napoli e secondo me serviva al napoli una vittoria così una vittoria larga una vittoria che può dar fiducia è ovvio che questa vittoria va presa con le pinze però il napoli è pressoché la squadra dell'anno scorso in termini di uomini no quindi una vittoria così potrebbe dar morale sia ai giocatori ma anche alla piazza anche se a napoli quando gioca in casa il napoli è sempre un fattore e nella prossima partita contro la juve per la juve non si mette bene perché avere anche una spinta del pubblico e tanta motivazione da parte dei giocatori rinfrancati può uscire veramente una bella partita napoli juve inter atalanta ci sono state delle polemiche sull'arbitraggio però onestamente io io quando vedo l'inter giocare ragazzi mi diverto mi diverto perché giocano veramente bene al calcio e questo dovrebbe essere un po lo spirito anche di tutte le altre squadre poi magari l'organico dell'inter ce l'ha solo l'inter però l'inter è tanta roba fanno azioni fatte bene hanno un lautaro che basta che non calcia rigori è uno spettacolo da vedere sulle fasce vanno a mille i centrocampisti barella su tutti da spettacolo cioè l'inter è tanta roba ragazzi quindi io sono uno anche che dice sempre l'arbitraggi quando è giusto che sia è vero qualcosa poteva poteva andare diversamente però credo che alla fine anche avessero dato il gol di chetelare o quant'altro giocando in quel modo l'inter le partite le vince ma andiamo alle due top 11 come vi dicevo cominciamo da quella scommessa che già ci sono tante tante cose interessanti partiamo da dal portiere io ci ho messo elia caprile perché perché l'Empoli in casa ormai è una è una certezza da quando è arrivato Nicola stanno facendo veramente benissimo poi giocano contro il Cagliari che in trasferta fa una fatica in mane a fare a fare gollo quindi è una partita in cui vedo l'Empoli favorito potrebbe portarci un cliché quindi soprattutto poi in questa partita in questa giornata in cui i portieri rischiano rischiano in tanti caprile veramente una bella chiamata i tre difensori allora prima sono andato su Valeri allora è vero che ancora non è il Valeri che conosciamo noi però rispetto già alle prime partite lo vedo un po' meglio quindi già io se non sbaglio in 1-2 Fanta l'ho preso lo butterò dentro il Lecce sta soffrendo tanto in trasferta fa una fatica incredibile dove sono? Bessaglia Nedana un po' dappertutto ma anche Lecce lo stesso Frosinone in trasferta sono veramente delle squadre che non riescono a fare punti che non riescono a fare quello che hanno fatto magari più in casa ovviamente parlo del Lecce e del Frosinone e non della Salernitana e quindi ci metto Valeri magari per un assist, un bonus non atteso il secondo nome è quello di Luperto Luperto ora in questo periodo dobbiamo metterlo è un difensore che se abbiamo un bel modificatore è tanta roba poi è anche in fiducia a livello di bonus perché prima l'assist con la Juve ora un bel colpo di testa sono momenti in cui bisogna sfruttarli ma comunque anche quando non segna la sufficienza la porta sempre anzi addirittura da quando c'è Nicola ha preso 4-7 giochi col mod magari a 6 fasce ti porta 3-4 punti se hai anche altri difensori buoni quindi tanta tanta roba il terzo e ultimo nome qui sono andato un po' a rischiare è Bosele non so se partirà dal primo o meno perché è in ballottaggio con Ezibue è uno che a me piace sono sincero magari è ancora un po' grezzo dovrebbero lavorarci per migliorarlo però ha quell'esplosività che in Serie A veramente può essere un anzi direi sia esplosività ma anche dribbling perché spesso non lo riescono a prendere ovviamente abbinato alla sua velocità ed è uno che può mettere in difficoltà magari da quel lato Bradaric per mettere dentro le palle interessanti perché hanno un attaccante come Luca che se gli arriva la palla di testa in quel modo gli fa quindi bisognerà vedere però solamente se sarà titolare vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se questo format vi piace di iscrivervi al canale e vi aspetto in live pomeriggio allora passiamo ai centrocampisti io sono andato come primo nome quello di Mazzitelli qui negli shorts ho messo Arrui un altro giocatore che mi piace qui ci ho messo Mazzitelli che è uno di quelli che intriga tanto perché ormai quest'anno lo abbiamo conosciuto il gol ce l'ha il tiro ce l'ha sembra anche un po' la sua annata però parliamo di un giocatore che ha fatto 5 gol nonostante abbia giocato solamente direi 19 partite quindi è uno abbastanza continuo e quindi giocatore che secondo me si può mettere contro le secondo me il frosinone 2-3 gol li potrebbe fare quindi giocatori propensi al bonus si mettono secondo nome andiamo con Razva Marin dell'Empoli settimana scorsa l'ultima giornata ha portato a casa due assist contro il Cagliari se pensiamo che 2-3 gol l'Empoli li possa fare perché? perché non potrebbe uscirsi magari con un assist o anche un gol perché Marin quest'anno è stato sfortunatissimo non so quanti trappali e traversi abbia preso nonostante anche lui non è che abbia giocato tantissimo 12 da titolare 19 in totale gli manca il gol perché ha fatto due assist ma ancora siamo a 0 bonus è da ex magari contro il Cagliari poi è ovvio che magari Marin è un giocatore da almeno fantacalcio a 10-12 perché magari lo avevate preso in estate e a gennaio a febbraio quando c'è stata la celebrazione magari lo avete cambiato terzo nome andiamo con Illich giocatore che devo dire ha una continuità di rendimento veramente importante uno che da quando il Toro ha cominciato a fare a fare il risultato tranne contro Torino Torino Lazio mi pare fosse il cui abbia preso 5 tutte le altre partite tantissimi 6 e mezzo qualche 6 diversi 7 giocatore che è importante sia in termini di voti e anche qualche bonus perché due golletti quest'anno li ha fatti il mio ultimo nome nel centrocampo è quello di Folorush giocatore che ci piace tantissimo questa settimana non ho messo Fabian nella top 11 perché l'ho messo anche nello shorts che da qualche parte il nostro Fabian lo dobbiamo sempre mettere ci metto suo cugino Folorush giocatore che potrebbe addirittura giocare trequartista in Verona in Verona Sassuolo ed è uno che il gol ce l'ha vi ricordate quando in tanti mi chiedevate e ho preso Folorush però avevi detto che faceva che era uno da bonus piano piano li sta portando ora siamo già a tre gol e uno che è stato anche sfortunato se vogliamo perché in tantissime occasioni in qualcuna poterà fare meglio in qualcuno è stato sfortunato tanti tiri magari da posizione da distanza importante e lui ci è andato vicinissimo al gol è uno che per me 5 gol Folorush li può fare e 5 gol per uno che ha devocato un credito per me tanta roba poi mettiamoci anche che questa settimana giovano contro il Sassuolo che sono veramente allo sbando ed è questo il motivo per il quale metto Folorush passiamo all'attacco vi ricordo un bel like ragazzi partiamo subito forte con l'unico nome magari più importante che è quello di Lucca è un attaccante che è da un pochettino che non ci porta il bonus contro la Salernitana per me segna vi dico anche che io ne ho due di Lucca nei Fanta e io lo butterò dentro questa settimana per me basta che gli arrivi una palla di testa questo è vero anche che la Salernitana ha un gran portiere come Ho però Lucca settimana si sblocca me lo sento me lo sento e quindi lo metto abbastanza abbastanza convintamente secondo nome qui ora andiamo su due scommessine la prima è Noslin del Verona più di qualcuno mi ha chiesto dai parlaci di Noslin ma è un giocatore che sta giocando titolare il suo lo sta facendo ancora ha portato solamente un gol all'ultima ha preso la prima insufficienza però comunque è un giocatore valido qui ero in dubbio se mettere Noslin o Swideski perché diciamo quando si gioca contro un giocatore molto forte come Ruan i giocatori offensivi si devono mettere l'ultimo nome è quello di Gambiaghi sto ragazzo non c'è niente da fare è sfortunato è sfortunato perché segnano tutti tranne Gambiaghi cioè è uno di pochi che fa sempre bene però non segna e quest'anno solamente un assist è quello che non riesco a capire c'è un giocatore che incide nei match fa bene salta l'uomo però poi il gol non arriva sono anche convinto di una cosa siamo alla ventisettesima ora andiamo e quindi cominciano ad essere poche le partite che mancano però sono convinto che due tre gol lui li fa uguale anche se ora è a zero vediamo poi alla trentottesima se avrò avuto ragione o torto perché sicuramente in alcune circostanze sottoporta doveva essere più lucido più freddo e far gol però è anche stato un po' sfortunato in alcune circostanze quindi io ci credo ancora prima di passare alla top 11 classica gli dico la fortuna viene a me la fortuna viene lì dai coi like ragazzi prendiamoci la fortuna perché ora è tempo di vincere gli scontri perché ora valgo un doppio quindi mi raccomando like iscrizione al canale che portano non dico una vittoria certa al Fanta però portano tanta tanta fortuna in più poi passiamo alla top 11 classica i portano non ho avuto dubbi ci ho messo Sommer dell'Inter l'Inter è illegale quest'anno è vero che il Genoa è una squadra tosta però anche l'Atalanta lo era veniva da un buon momento forse l'unica partita in cui la Tanta ha fatto meno bene delle ultime era contro il Milan strappando un pareggio e l'Inter gliele ha date di santa ragione e quindi Sommer ce lo metto difensori qui vi dirò poi anche delle alternative a fine video io vi dico come l'ho ragionata io ci ho messo Di Marco Danfries e Pavard dell'Inter è un rischio sì il problema è che il rischio lo correte uguale perché se metti Bremer dovrà ammaccare Ozyman o fa la partitona e non fa toccare palla Ozyman e ci può stare però il rischio che Bremer non riesca a tenere Ozyman c'è ed è alto perché Ozyman lasciamo perdere ieri che magari ha avuto vita facile però anche a Cagliari ne poteva fare due quindi non me la son sentita di rischiarlo e comunque tutte le partite non sono semplici cioè o mettete magari al posto di Benjamin Pavard un altro difensore che vi può portare un bonus cioè un bonus un buon voto da modificatore mi viene in mente un Colasinac comunque poi vi dirò delle alternative o comunque mi rischio sui tre dell'Inter che tanto se vincono anche un 2-0 3-0 i voti partono da 6 6 e mezzo 7 e quindi ci metto tutti i tre dell'Inter il quarto nome è quello di Teher Nandez per cercare un bonus partita semplice no giocano contro la Lazio domani però è pur sempre un vice rigorista poi lo devi segnare il rigore perché se li calci come Lautaro è meglio che non li calci i rigori però però è pur sempre è pur sempre Teher Nandez ripeto le alternative qualcuna c'è che poi vi dirò però non sono non sono giocatori che dico metterei a prescindere ecco passiamo al centrocampo centrocampo sono andato sono andato un po' diversamente perché solitamente magari c'era Cialanolu e questa settimana non so se ci sarà e quindi non lo metto di solito c'è Gudmundson Gudmundson contro l'Inter in top 11 classica non ce lo metto e quindi l'ho ragionata così il primo nome che ho fatto è quello di Coppemainers perché è un giocatore continuo è uno che volente o nolente è un giocatore che prende sempre dei buoni voti anche quando non segna rigorista della squadra poi bisognerà vedere se giocherà Luckman chi andrà sul dischetto però comunque è vero che c'è Atalanta Bologna però Atalanta la vedo favorita rispetto al Bologna perché in casa fanno decisamente meglio il secondo nome è quello di Barella giocatore che fa fa entrambe le fasi in una maniera incredibile è uno di quei giocatori che tolto quelle come dire quelle reazioni quelle polemiche sterili che fa è un giocatore che ha una continuità incredibile ora senza andare a guardare le statistiche ma a memoria penso più di due tre partite l'insufficienza non l'ha presa è un giocatore che dici mal che vada un sei e mezzo me lo porta spesso a casa e in questa giornata in cui tanti nomi non ci sono io mi accontento anche magari di un assist o perché no magari anche di un gol e poi continuiamo nel centrocampo ci ho messo Riccardo Orsolini Orsolini ha sempre un po' il dente avvelenato contro l'Atalanta ecco io immagino una partita con tre quattro gol Atalanta Bologna mi aspetto una partita aperta con occasioni da ambe le parti con l'Atalanta un po' favorita per Orsolini per me può essere quello che segna nel Bologna quindi ricade su di lui la mia scelta il quarto e ultimo nome per chi magari gioca senza modificatore da difesa e quindi schiera quattro centrocampisti è quello di Charles De Chetelare che in casa è un fattore i bonus la sta grande maggioranza dei bonus li ha portati in casa o gol o assist nelle ultime nelle ultime tolto Atalanta Atalanta Sassuolo ha sempre portato tanti bonus quindi giocatore che anche ieri aveva segnato poi non so se giustamente o meno gli è stato annullato il gol però è un giocatore che ci gioca a punta sta facendo bene in questa giornata particolare ho pochi dubbi nell'andarlo a mettere vi ricordo un bel like ragazzi di iscrivervi al canale ditemi come sempre nei commenti cosa ne pensate del prossimo anno che voglio portare invece della top 11 classica questa vediamo se la metterò nel livello base degli abbonamenti o quant'altro cosa ne pensate di fare il prossimo anno la top 11 scommessa come quella che facciamo quest'anno è una top 11 tipo underdog cioè quei giocatori che non sempre mettiamo quasi sempre al fanta ma non sempre come i giocatori che vedete nella top 11 classica ecco quindi fatemelo sapere nei commenti anche per avere una vostra opinione importante io li leggo tutti i commenti anche quelli che avete fatto nei scorsi video davanti tolto Lautaro che si mette sempre perché quello c'è poco da dire Lautaro e Lautaro e si mette sempre i due nomi sono il primo Paolo Di Bala cavolo viene da una tripletta che mi ha fatto anche un po' male da un certo punto di vista mi ha fatto bene nei fanta calcio ad asta perché nel mantra mi permette di pareggiare in un mantra che vi ho fatto vedere nel video di martedì se vi va andatelo a rivedere perché secondo me vedete vi solleva se pensate di avere sfiga guardando quel video vi vi rincuorate un po' io avevo tripletta di Bala gol di Luisa Alberto gol di Duvan Zapata tutti a lunedì per riuscire a strappare un pareggio 3 a 3 incredibile però almeno ho vinto nel recupero quindi ho aggiustato un pochino la classifica dal punto di vista degli scontri e sono arrivato già secondo in quella battle royale che è quella in cui il culo un po' si attenua quindi almeno quello almeno quello e di Bala ragazzi il Monza è una squadra compatta in casa non subisce tantissimo però in una giornata in cui Girù Lazio Milan c'è Napoli Juve ci sono tante partite difficili c'è anche Atalanta Bologna allora ci ho messo di Bala che in questo momento sta bene dovrebbe giocare titolare perché passeranno 5 giorni tra una partita e l'altra e quindi e quindi ce lo metto il terzo nome è quello di Victor Osimena ora qui vi darò anche delle alternative due alternative però secondo me Osimena non si può fare a meno di mettere perché perché alla fine quando sta bene è Osimena e il Napoli come dicevo prima ora ha ritrovato fiducia è un Napoli in fiducia con una Juve che nelle ultime dire che ha faticato è anche dire troppo poco è una Juve in cui oltretutto già in un centrocampo non proprio competitivo ha perso McKennie e Rabiot due giocatori fondamentali per il centrocampo della Juve è vero che finalmente vedremo Alcaraz però riuscirà la Juve a tenere botta ecco questa è una partita Napoli-Juve che potrebbe uscire veramente in qualsiasi modo e io Osimena me lo rischio ora vi dico anche tutte le alternative però ricordatevi un bel like il like porta quasi una vittoria certa al Fanta mi raccomando allora le mie alternative in difesa ho messo con la Sinac che alla fine in Atalanta-Bologna se ne può uscire magari con un bel 6,5 poi di testa è anche forte quindi metti caso che voglia segnare oppure un Luperto per il modificatore Luperto potrebbe essere buono Luperto che avevamo messo anche nella top 11 scommesse quindi queste sarebbero due alternative se magari non vogliamo rischiarcene tre dell'Inter oppure magari anche mettere un altro giocatore a copertura dell'Inter ecco queste potrebbero essere delle idee per voi a centrocampo due nomi potrebbero andare a sostituire magari un CDK o un Orsolini se non vi piace comunque se dei quattro qualcuno non vi aggrada potete scegliere fra un Lorenzo Pellegrini col Monza o un Christian Pulisic anche se ripeto la partita contro la Lazio per me non è una partita semplice ieri un ragazzo ha commentato per quello che abbiamo visto all'ultima giornata il Milan va a Roma e vince però non funziona sempre così cioè non è che il Milan è l'Inter che dici cavolo è una squadra che gioca sempre bene ha giocato benissimo contro l'Atalanta e non ha vinto e poi ogni partita fa storia a sé la Lazio ultimamente contro il Milan sta facendo anche buone prestazioni quindi c'è un po' anche di storico è una partita importante per la Lazio perché se la Lazio non fa punti quindi è una partita difficile secondo me anche per il Milan assolutamente poi che possa vincere il Milan come possa vincere la Lazio assolutamente sì però non è scontato che il Milan va a Roma e vinca non è l'Inter ragazzi e poi e poi davanti Giroud Vlaovic su Vlaovic io resto spesso così come dire senza parole quando leggo Vlaovic anche se fa tutti quei gol per me è scarso va bene che cosa vi posso dire cioè se un giocatore che fa da quando da quando si è visto che che sta bene che è guarito dalla pubbalgia ha fatto quasi forse i gol di Lautaro perché andiamo andiamo a vedere il bonus dalla diciassettesima in poi ha fatto due sei sette otto ha fatto dieci gol dalla diciassettesima quindi forse anche più di Lautaro cioè se poi un giocatore così è scarso allora allora va bene tutto però il Napoli Napoli poi in casa è una squadra che i gol li subisce quindi non è male neanche la chiamatina Vlaovic e poi Oliviero Giroud non lo so se questa settimana lo metto quinto io poi è sempre un giocatore che calcia rigori se il Milan magari fa la partita che ha fatto contro Atalanta magari con maggior fortuna riescono a fare più gol e anche Giroud fare bene è ovvio che qui la linea tra un attaccante come Osimene contro la Juve e un Vlaovic e Giroud è molto sottile se preferite un altro è andare su un altro e qui magari direi Lautaro da mettere assolutamente Di Bala per quello che ha fatto all'ultima non me la sento di escluderlo e sull'altro potete scegliere anche voi bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale vi aspetto oggi pomeriggio in live se avete dubbi su chi schierare al fantacalcio o se avete qualche scambio in mente da fare potete farmelo in live in descrizione trovate tutti i link per seguirmi sia il canale whatsapp in cui mettiamo sempre i link dei video e delle live il canale telegram il gruppo telegram degli iscritti il gruppo telegram per fare una call con me per starx e infine vi ricordo che poi domani ci vediamo con il video dei fantaconsigli in pillole più i miei indici di schierabilità e domani ci sono anche due live su youtube una 14 14 e 30 l'altra si fa sempre intorno alle ore 19 e in più e in più c'è la live sulla piattaforma viola a seguire quella del pomeriggio di youtube che di solito ci spostiamo intorno dalle 15 e 30 alle 15 e 45 più o meno ci spostiamo su twitch per fare un 20 minuti mezz'ora di live per tutti gli abbonati della piattaforma viola quindi se avete magari amazon prime non vi costa nulla potete andare a seguirmi e fare la sub per avere un aiuto maggiore al fantaconsigli con questo è veramente tutto ciao ragazzi ciao ciao ciao